Eccolo qua, siamo nello studio di Lino Costa, dove in qualche modo si sta facendo il missaggio audio. Ecco, potete sentire già qualche musica, una leggera, proprio una strofa. Ecco, basta che troppo. Queste sono le musiche splendide di Lino Costa. Invece da questa parte, eccola lì, lo vediamo davanti a un microfono, Emanuela, ma che stai facendo qua dentro? Ecco. Che fai? Eh, che faccio? Che fai? Ho appena finito, mi ho appena finito l'audio, registrazioni audio, voice over, e spero di avere dato il massimo, spero di esserci riuscita comunque. Oh, guarda, ma che cos'è? Un foglio? Cosa c'è scritto? Mmm, Nuovo Imaie, Comune di Palermo, Centro Tao, Calosse Edizioni, Giscal, Saten, Chica Blu, Skip, Decibel, Opera Buffa e White B&B. Cosa sono? Sono gli sponsor del nuovo film e breve di Giuseppe Moschella, Una signorina con Sessamo. Direzione della fotografia di Cipri, prodotto da Camelli Cinema, appunto la nostra associazione, col sostegno appunto del Nuove Imaie, tanti colleghi attori bravissimi che hanno partecipato, il montaggio di Ereino Pitruzzella, le musiche di Lino Costa, il make-up di Valentino Milazzo, il backstage, foto backstage, Federica Guardo, foto backstage Rosanna Costantino. L'aiuto regia è Angelica Cricchio e poi che ci ricordiamo? Gli attori Mario Pupella, Emanuele Mule, Aurora Padalino, Nando Chifari, Marco Feo, Tommaso Caporrimo, 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 e tanta, tanti altri, c'erano 22 persone come una truppa insomma abbastanza nutrita, spero in qualche modo di non scordare nessuno. Sì, stiamo scordando tantissimi perché veramente abbiamo coinvolto tante persone e con tanta fatica, tanta passione, ma tanta pazienza abbiamo messo su questo gruppo, questa creatura ha preso forma, sta prendendo sempre più forma e poi come un figlio che è nato lo lasceremo andare, i più importanti festival internazionali. Mamma, 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 sono il figlio. Sì, oddio, 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 oddio.